...è camuffata. Non ci arrivi. Non vuole battere il suo papà. Giocate con noi. Il programma è offerto da una prestigiosa titta di cosmetica. Oh, dai! Secondo lei hai perso apposta. Lo sai che vuol dire? Perdere apposta? No. Bene, questa volta però gioca sul serio. Ma ho giocato sul serio? Sì, ne sono convinto, ma ci facciamo subito un'altra partita. Per divertirci, d'accordo? Josh, se lo batti non ci resterà male. Tocca a te. Tocca a te, Josh! Non posso. Sto giocando a scacchi con papà. A scacchi. E' un gioco come monopoli. Josh! Non riattaccare. Eccomi. Tocca a te, Josh! L'hai mosso quel pezzo? Ho mosso un pezzo, sì. Sì, quello. Passami il cavaliere davanti al re. Vuoi dire il cavallo? Sì. Agli ordini. Così perde la regina. Davvero? L'hai spostato? Sì. Possiamo uscire adesso. Beh, la partita non è ancora finita, Josh. Sì che è finita. Sì che è finita.